Un commento al premio e che cosa valorizza del lavoro di un anno? Sono molto soddisfatta perché credo sia un premio veramente meritato. Banca Generali ha investito sulla leadership femminile appunto creando e promuovendo il ruolo delle donne in un ruolo che è tipicamente femminile come quello della consulenza finanziaria ma non ci siamo limitati a questo perché abbiamo premiato anche la managerialità al rosa della banca con tutti i ruoli chiave tra cui quello che rappresento del General Council affidato a donne di grande professionalità e leadership e questo ci ha premiato anche nel business e nei risultati di business ma ancora una volta anche nella premiazione del ruolo del genere dello sviluppo del genere femminile che ha da riportare sul mercato, di riportare nel business di tutti i giorni le soft skills, la managerialità e l'inclusione che è tipico di noi donne quindi sono molto soddisfatta del premio. Ci fa piacere. Un commento alla serata? Vi state divertendo? Pensa sia un momento di scambio e di crescita del mercato? Assolutamente è stata un'esperienza molto interessante sia la parte dedicata ai forum che la parte proprio di cena per fare un network importante e così scambiare idee e opinioni, divertirsi scambiandosi appunto anche spunti di riflessione sul futuro e su cosa che vogliamo fare come banca, come azienda e come General Council in questo caso. Due parole, gli ingredienti della direzione legale di successo? Una grande freschezza e una grande apertura e ascolto del cambiamento, ascoltare soprattutto, ascoltare i colleghi, ascoltare il mercato, ascoltare il business, ascoltare i clienti. L'ascolto credo che sia quello che ci ha premiati come azienda. Grazie.